Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV Oggi parleremo dell'aeroporto di Comiso, un'importante infrastruttura della provincia di Ragusa che tra pochi mesi dovrebbe prendere il volo Parleremo insieme al Presidente della SAC, Enzo Daverniti Buonasera Presidente Buonasera a voi Presidente, iniziamo un po' dalle ultime novità Nei giorni scorsi c'è stato un importante incontro con i rappresentanti della compagnia aerea Air One Durante questo incontro, questo vertice, di cosa si è discusso e soprattutto sono stati portati importanti risultati Si, si è discusso un po' dell'aerostazione Si è guardata l'aerostazione, si è visto che è una bellissima struttura Hanno notato alcuni problemi relativi in particolare alla zona commerciale che si trova al terzo piano Loro consigliavano, come giustamente deve avvenire, che la zona commerciale sia di passaggio ai turisti A coloro che utilizzeranno l'aeroporto Altrimenti non avranno, diciamo, utili all'interno della sua ACU Dopodiché si è discusso della possibilità di avere dei voli su Comiso Si parla principalmente di voli charter Non escludendo per niente la possibilità di qualche linea Logicamente se si farà una linea, la linea dovrà essere quella che non crea problemi a Catania da un lato Ma anche quella che non crea problemi a loro In quanto già su Catania loro volano per Roma e per Milano Che sono le tratte che a noi piacerebbe avere inizialmente Ma che da quanto abbiamo appreso dovrebbero in questo momento essere messe da parte Si penserebbe invece a voli su linee alternative Per esempio Torino, per esempio Venezia, per esempio Pisa Ecco, nei giorni scorsi si era parlato di Roma e Milano Quindi spendiamo questa notizia di Roma e Milano Quindi altre linee alternative In questo momento sì, si è discusso in quella sede delle altre linee Ciò non toglie che si possa anche discutere Quando si avrà l'incontro tra i tecnici a Milano Anche della possibilità di avere un Roma e un Milano Ma le devo dire che da quanto ho capito è un po' difficile Per quanto riguarda invece le altre compagnie aeree Ci sono stati già altri contatti Magari tratte con un capitale europeo Con altre destinazioni? In questo momento ci sono tanti incontri Che premettono, non vengono fatte da me Noi siamo socio di maggioranza E quindi abbiamo partecipato a questo Air One Perché abbiamo spinto presso la compagnia Per farla aggiungere a Comiso In realtà tutto il resto lo sta facendo la Soaco Saro di Bernardo e l'amministratore delegato So che ci sono altre compagnie Che sono compagnie low cost O compagnie che potrebbero pensare anche a una linea Però non conosco i nomi In quanto questo pezzo è stato fatto da qualcun altro Ecco il fatto che ci sia Air One Che forse ci sarà l'Italia O altre compagnie low cost Come la Rai Nere Sicuramente è un violallochiello per l'aeroporto di Comiso Cioè un buon viatico pubblicitario Possiamo dirlo Ma senza dubbio L'Air One è per noi importante È una compagnia di bandiera importante Ed è una compagnia che farà crescere un aeroporto come quello di Comiso Perché il nostro non è un aeroporto Un piccolo aeroporto fatto male Fatto velocemente È un aeroporto pensato Un aeroporto che ha una propria struttura Infrastruttura corretta Fatta in maniera corretta E quindi ha bisogno di una compagnia di livello per poter partire Ciò non toglie che ci saranno compagnie low cost di livello Che potrebbero scendere a Comiso Ecco secondo alcune previsioni fatte qualche mese fa Addirittura si parlava di milioni di passeggeri Che potrebbero transitare da Comiso A questo proposito voi come Sacca Avete pure degli studi che possono confermare questi numeri E sono grossi numeri naturalmente Ma guardi questo è un aeroporto che è nato Mi pare per 750 mila passeggeri Può arrivare al massimo a 2 milioni di passeggeri Oltre non può andare Per cui Dobbiamo rientrare in questi valori Ma le devo dire che 750 mila passeggeri Sono una cifra Molto molto alto Per il nostro territorio Anche perché il nostro territorio dovrà lavorare Per far sì che questi turisti arrivino Che questi voli si possano effettuare Perché non possiamo pensare soltanto ai ragusani Che vanno fuori Vanno a Roma, vanno a Milano Vanno in altri posti Dobbiamo pensare ai turisti che devono arrivare nel territorio Quest'aeroposta è stata fatta in particolare per i turisti Quindi gli alberghi O tutto ciò che è di turismo C'è in provincia di Ragusa Dovrà essere utilizzato Ma dobbiamo pensare anche ad altri territori Per esempio al territorio di Agrigento Collegamenti migliori con la provincia di Agrigento Perché quella è una provincia Che potrebbe essere Potrebbe fare la differenza Attualmente utilizza l'aeroporto di Palermo Quindi potremmo attrarre quella provincia Verso il nostro territorio Verso il nostro aeroporto E poi bisogna incominciare a lavorare Con la provincia Con i comuni Con la sovrendendenza Perché chi arriva qua Nell'aeroporto di Comiso Dovrà sapere che cosa poter fare Quindi dovremmo Non avere le chiese chiuse Non dovremmo avere i musei Chiuse ad orari particolari Il castello L'hanno fugato aperto Non dico 24 ore Ma almeno 12 ore al giorno E comunque aperto Nei momenti in cui i turisti vanno in giro Quindi nel momento di pranzo Non chiuderlo Perché non c'è una staffetta all'interno Bisogna lavorare Perché il nostro territorio Diventi attrattivo Per i turisti Perché se questo non avviene L'infrastruttura Non dico che è inutile Ma comunque avrebbe una grossa difficoltà A crescere È necessario avere dei collegamenti seri Con il porto turistico di Marina di Ragusa E col porto commerciale di Pozzallo Bisogna ripensare la provincia In maniera totalmente diversa Da come è stato fatto oggi Ecco, in quest'ottica Secondo lei Il territorio ancora non è pronto Però Visto che fra pochi mesi Partirà l'aeroporto Riuscirà il territorio Dal punto di vista Sia ricettivo Sia infrastrutturale A mettersi poi al passo Immediatamente? Questo non glielo so dire So soltanto che Per far partire l'aeroporto Si sono persi tantissimi Tantissimi anni Dal 2007 ad oggi Avremmo dovuto fare Già dei passi notevoli Abbiamo perso anche Il treno Del famoso Film Di Montalbano Che era un qualcosa Di attrattivo Per il nostro territorio Se in quel periodo Avessimo avuto un aeroporto Avessimo avuto un territorio Già pronto Ad assorbire I turisti Diciamo che la strada Sarebbe stata spianata Oggi diventa sempre più difficile La crisi Dobbiamo essere migliori Rispetto ad altri territori Perché se uno vuole venire Nel nostro territorio Deve essere economicamente vantaggioso E gli dobbiamo dare Dei servizi notevoli Altrimenti la gente Penserà che con la stessa cifra Può andare Alle Bamas O in altri posti Quindi turisticamente Più di appeal Io penso che il nostro territorio È un territorio che ha tanto Ha il mare Ha la montagna Ha la cultura Agli odori Ai sapori A tante cose Se riusciamo a far capire questo Al turista Allora raggiungeremo degli obiettivi Senza dubbio è una questione culturale È un qualcosa che dobbiamo fare Gradatamente Quindi dovevamo già partire Tempo fa Ma oggi ci troviamo in questa situazione Facciamo partire all'aeroporto E poi cercheremo di costruire tutto attorno Ecco poco fa Parlavamo delle compagnieri Che sono quelle fondamentali Per fare partire l'aeroporto Ma ancora cosa manca? Manca qualcosa Forse siamo ai dettagli Però La struttura non è pronta al 100% Mancano anche alcune certificazioni Che io sappia L'importante è che arrivino le compagnie Poi mancano alcuni piccoli dettagli Come la caserma dei vigi del fuoco Che non è completa Poi non c'è il serbatoio per il carburante Ma nelle more si utilizzeranno le autocisterne E poi manca un po' il completamento Qualche parte del completamente esterno Piccole cose Ma l'importante è avere le compagnie Ci siamo fatti un calcolo Che in due mesi Due mesi e mezzo Dal momento in cui arrivano le compagnie L'aeroporto può tranquillamente partire Quindi l'importante è In questo momento fare gli accordi Tra una decina di giorni I tecnici della Soago Insieme a quelli della SAC Andranno a Milano Per discutere con Air One Sulle possibili linee E contemporaneamente Si cerca di chiudere Con le altre compagnie Se questo avverrà Nei tempi previsti E in breve Allora è possibile Che per l'estate Potremmo decollare Lei ha detto l'estate Quando c'è stata la firma Della convenzione Si era data come Scusate il gioco di parole Il 5 aprile Però il 5 aprile forse Non ce la facciamo Per farlo decollare Da quello che so io Il 5 aprile è una data difficile Perché già i due mesi Due mesi e mezzo Per sistemare tutto il resto Non ci sono Dare una data in questo momento Non è semplice E non è neanche corretto Perché bisognerà capire Con le compagnie Quale accordo Quale accordo si riesce a fare In maniera Come dire È presumibile Che per l'estate Ci si riesca Tra l'estate E fine estate Diciamo settembre Speriamo luglio Speriamo luglio Perché Significherebbe Per il nostro territorio Una boccata d'ossigeno Però dare una data In questo momento Mi sembra anche Poco corretto E non sono io La persona giusta Per dare una data Lo dovrebbe dare La sua ago Non la sacco Ecco anche perché Forse i cittadini Ormai sono disillusi Hanno atteso Da tanti anni L'apertura di questo aeroporto Forse proprio Adesso che ci siamo Siamo un po' Ecco alle porte Sono un po' scettici E quindi magari Non è giusto Dire le cose come stanno Quindi non fare Quel passo più lungo Della gamba Però io vorrei dare Una speranza L'aeroporto partirà Perché C'è un interesse forte A far partire l'aeroporto Perché le compagnie Abbiamo visto Un interesse a scendere Perché il territorio A mio parere È anche pronto Ad una infrastruttura Del genere Ed è pronto anche A fare sacrifici Per far sì Che questa infrastruttura Parta Per cui Io dico Ai cittadini Che sono sicuro Che l'aeroporto partirà Però bisogna fare Le cose per bene Oggi Perdere un mese O perdere due mesi Non ha significato L'importante È avere le compagnie giuste E iniziare Col piede giusto Perché se questo non avviene Poi avremo problemi In futuro Per la gestione Dell'aeroporto Quindi la speranza Non è più una speranza Secondo me È una certezza Bisogna solamente attendere O è luglio O è settembro O è maggio O è giugno Non cambia L'importante L'importante è arrivarci Ormai siamo lì Siamo in direttura di arrivo Ecco ci avviamo Verso la conclusione Un'ultima battuta Riguardo E con la sua nomina Ai vertici della SAC Il fatto di avere Un ragusano Come presidente Ha inciso Secondo lei Per accelerare l'iter Oppure Sarebbe stata la stessa cosa Secondo me Sarebbe stata la stessa cosa Perché c'è un interesse Forte anche di SAC A far partire l'aeroporto Oramai dopo la firma Del protocollo Bisogna partire velocemente Altrimenti Le SAC Dal 5 aprile Il fatto della non partenza Prevede una penale Che si pagherà Di circa 10.000 euro Alla fine Essendo socio di maggioranza Una grossa parte La pagherà la SAC Quindi comunque 10.000 euro al mese Al mese Quindi la SAC Ha interessi a partire Questo è sicuro Il fatto che ci sia stato Un ragusano Forse ho velocizzato Ho spinto qualcosina in più Per far arrivare Ruan Per far sì che I dipendenti Nostri Tecnici Avessero Come dire L'autorizzazione Di andare avanti Però è un qualcosa Che non lo so valutare Perché ho visto Piena disponibilità Da parte di SAC Quindi non ho spinto Ho detto Dovete andarci per forza Assolutamente Ho detto Lo facciamo E tutti hanno detto bene Quindi Non so se la mia presenza È stata determinante Beh sicuramente Un ragusano Un ragusano per noi Era importante Perché pensiamo Che un ragusano Possa fare qualcosa di più Bene Noi ringraziamo Per il presidente Della SAC Enzo Taverniti Per essere stato qui con noi Il nostro tempo a disposizione È terminato Grazie presidente Grazie a voi Grazie anche ai nostri telespettatori L'appuntamento è per una prossima puntata Di 15 minuti con Grazie a voi